La Ryanair conferma di voler lasciare all'aeroporto di Pescara, sono arrivate nelle ultime ore le lettere di trasferimento per i dipendenti. E noi confermiamo tutto il lavoro per cercare di evitare questo tipo di conclusione. Ci sono ancora qualche margine, molto risicato, molto ristretto, però abbiamo incassato il sì da parte dei privati. Ora ci vuole il tempo però per organizzare le due proposte che sono in campo, l'eva fiscale o comunque un piano di marketing che si autofinanzierebbe per poter contribuire poi alla parte non copribile con il contributo pubblico, però è evidente che ci vuole un po' di tempo. Noi con queste due proposte sentiremo Ryanair e quindi vediamo se ci può essere una soluzione ponte per garantire la programmazione invernale delle rotte e quindi in quel caso poi ce l'abbiamo fatta perché avremo sia la disponibilità della quota pubblica già disponibile sia la disponibilità della quota privata. State pensando però anche eventualmente ad una soluzione alternativa? Il punto è che tutti sappiamo che il vettore low cost che fa fare i numeri agli aeroporti regionali come il nostro ancorché di rivanza nazionale è Ryanair. Magari venissero anche altri ma non ci sono e questo è il dato di verità. E questo comporterebbe il dato drammatico per l'aeroporto perché se noi scendiamo sotto i 500.000 passeggeri poi la conseguenza è che non siamo più aeroporto nazionale ma diventiamo aeroporto regionale e tutte le spese che oggi vengono coperte dallo Stato poi ricadrebbero addosso alla saga.